Ciao a tutti, oggi desidero parlarvi della speciale formulazione che ha creato il Dottor Buck, scegliendo 5 tra i 38 rimedi floreali. Si tratta di Rest to Remedy, tradotto rimedio di emergenza. I fiori contenuti all'interno sono Cherry Plant, Clematis, Impatient, Rock Rose e Star of Bethlehem. Rest to Remedy ci aiuta a riequilibrare le nostre emozioni nei momenti di grande disagio. È adatto a coloro che hanno subito shock emotivi importanti, hanno ricevuto delle brutte notizie, hanno subito un grande spavento. Rest to lo possiamo immaginare come un salvagente che ci tiene a galla durante le tempeste più impetuose. Rescue ci aiuta tutti i giorni a gestire gli imprevisti con serenità senza mai perdere lucidità. È consigliato tenerlo in borsetta, nello zaino, al lavoro, perché potrebbe esserci utile in molteplici situazioni. Facciamo degli esempi. C'è utile prima di una visita dal dentista, potrebbe esserci utile prima di un esame, potrebbe esserci utile prima e durante un volo aereo, durante una riunione, quando si parla in pubblico, piuttosto che a fronte di una lite, una lite in famiglia, sul lavoro, una lite a scuola. Rescue ci viene in aiuto e ci regala serenità. La formulazione classica, Rescue Remedy in gocce, contiene brandy per la conservazione, mentre Rescue Spray è senza alcol. È più adatto a bambini, a donne in gravidanza, in allattamento, piuttosto che persone astene. Come assumere Rescue? Rescue Remedy si possono assumere quattro gocce all'interno della bocca per ogni volta che si sente il bisogno, quindi direi all'occorrenza. Stessa cosa al Rescue Spray, due spruzzi all'interno della bocca all'occorrenza, ogni volta che si sente il bisogno, anche in periodi piuttosto ravvicinati, perché non c'è sovradosaggio e Rescue non ha interazione con farmaci. Spero che queste informazioni possano esservi utili nella vita di tutti i giorni, spero ne facciate tesoro, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima. Un caro saluto, grazie!